Il mondo della moto d'autore vive un nuovo ed entusiasmante capitolo, nasce la collaborazione tra Moto Argento, rinomato showroom, specializzato in hypermoto e Tamburini Corse, leader nel mondo nella realizzazione e progettazione di moto esclusive. A raccogliere l'importante testimone lasciato da Massimo Tamburini, scomparso nel 2014, ci ha pensato il figlio Andrea, da sempre collaboratore del padre e attivo nel suo dalizio con MV Agusta. Am I even new, I'm not even used to this, no? Isn't that I need you? Cause I'm better than I was before This is what you're waiting for, I think I'm ready to ride Vere e proprie opere d'arte, le Tamburini non sono solo moto esclusive ma sono anche un investimento sicuro. La loro rarità, unita al prestigio del marchio e al design senza tempo, fa sì che la domanda supere di gran lunga l'offerta e alimenta così il mercato del collezionismo. Vieni a visitare la più grande esposizione di Tamburini in Europa, ti aspettiamo! E' tutto onore che! Grazie a tutti